Sono Datatag e Dagonzuto e siamo tornati su Minecraft. La casa è pronta, mattoni solidi, e noi adesso vogliamo fare un viaggio al centro della terra. Esatto. Allora, scegliamo un punto e iniziamo a scendere. Beh, qui c'è già un'altra grotta, quindi magari non troppo vicino. Sì, andiamo un po' più. Partiamo da qua. Da qui, dici? E anche rischiamo di trovarci sotto casa nostra. Ma, in caso basta bypassare anche quelle grotte lì. Boh, proviamo, dai. Corridoio 2 e andiamo giù da questa. Si scende. Bene ragazzi, allora, adesso scendiamo verso il centro della terra, cominciamo a scavare, e intanto vogliamo parlarvi un po'. Siccome le idee un po' scarsizzano, perché in realtà le idee sono tante, però non vogliamo fornire un servizio in cui noi ci mettiamo qua a scavare, a costruire, o a fare cose particolarmente lente che magari possono risultare non liuse. Perciò, vi chiederemo un favore, finora, ok, il canale è piccolo, probabilmente, c'è un po' anche la timidezza di fare i primi commenti, sento che nessuno commenta ancora i nostri video, perché siamo ancora un canale che non è cresciuto ancora, che deve ancora mettere le radici su YouTube. Perciò, vorremmo chiedervi questo piacere. Superate questa timidezza iniziale, quei pochi che ci seguono. Aiutateci a crescere, magari condividere i nostri video, aiutare il nostro canale a trovare, appunto, nuove visualizzazioni, cioè, nuovi possibili spettatori. E commentate, commentate e diteci cosa volete vedere, che noi seguiremo i vostri consigli, insomma, se volete vedere che noi costruiamo dei labirinti, diteci, costruite i labirinti, che se è palloso o no, fatecelo diventare divertente, ma costruite i labirinti, non ci dispiace vederli costruire. Oppure dite, guarda, costruire è pallosissimo, tenetevi la vostra casetta così, boom, andate in giro, scavate, come stiamo facendo adesso, diteci cosa volete vedere, senza problemi, e noi accetteremo i vostri consigli, molto volentieri. Inoltre, che altro aggiungere, cioè, solo questo, vi preghiamo di, appunto, di comunicare con noi, in modo tale che possiamo offrirvi un servizio più divertente. No, però, mi sono bravo, sì. Poi, vabbè, noi ovviamente siamo ancora dei novellini di YouTube, ovviamente, quindi dobbiamo un po' imparare a raccontarvela, come si può dire, imparare a parlare di più, a rendere più divertenti, più coinvolgenti i nostri momenti, i nostri gameplay, però ci stiamo lavorando e speriamo di ottenere qualcosa di buono. Già. E qua, non si sta trovando niente, un po' di ferro, però è inutile stare lì, prenderlo, lo prenderemo in risalita. Ma, qui non c'è, sta finendo i picconi. Ah, beh, se vuoi, c'ho qua, quello per la crafting table, per, per farlo solo. Nel, un attimo, anzi, meglio che la metti giù, perché c'ho il piccone qua, che proprio sto per, sto per lasciarci, sto per scedere. Allora, vetti angelo la crafting table. Eccoci qua. Vi faccio un paio di picconi, di qui entra. Viaggio al centro della terra, vediamo se troviamo delle grotte interessanti o se arriviamo proprio al centro, dove c'è quel materiale nero, che è indistruttibile. Scendiamo, vediamo. Speriamo magari di trovare qualche bella pietra, pietra preziosa. Qualche diamante non fa base. E poi, un diamante, nella realtà è per sempre, ma su Minecraft verrà usato alla busta della luce, per creare armature o cose strane. Inoltre, un'altra cosa, come avrete notato, non siamo dei giocatori esperti. Infatti non ci mettiamo a costruire, chissà, circuiti. Siamo al centro della terra. Profondità, 5. Siamo arrivati al centro. Andiamo via dritti. Ah, ecco qua le prime pietre preziose. Cos'è? Mi mette giù una crafting table, perché non ho il piccone di ferro e qui c'è redstone. Ecco, a proposito di redstone... Stavo dicendo che per ora non siamo dei giocatori esperti e perciò non costruiamo grandi circuiti, eccetera. Però se volete darci suggerimenti o dirci cosa sbagliamo, cosa avete fatto una cappellata assurda, meglio evitare queste cose, ditecelo e dateci i vostri consigli che apprezziamo. O voi commentate, lo fateci sapere. Tanto io sento rumori di lava, quindi è meglio stare attenti a dove si spiccona. Carbone. Eccola che l'ho trovata. Metti giù la crafting table che mi hai rubato. Eccola lì. Mi faccio qualche piccone. Un e due. Già che sono... Andiamo a fare questa, proviamo. Quello è in ferro. Se devi con la scusa prendersi anche il carbone. Viriamo a sinistra, non diamo dritti. Meglio andare a dritti ancora un attimino. Terra al centro da terra. Sembra giusto. Sì. Oh, 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 altra roba. Chiusa. Noi andiamo a metterli qua, loro. Oh, ce l'è ancora anche qua. Oh, attenzione. Così, la... Sigiliarlo. Ci deve essere qualcosa di... Tazzesco qua sopra, un fiume assurdo. Mi sa proprio di sì. Ti stavo per spicconare la testa. Dai, 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 diamante. E allora... Ah, inoltre, se vorreste vedere delle adventure map giocate, consigliateci proprio l'adventure map stessa e noi ce la procureremo in qualche maniera. Faremo. Se magari volete aspettare o mettere un punto in stallo anche in questa serie qui di puro gameplay. Mi sento ancora là, ma intanto, mi sa che... Eh, non siamo... Proprio qualsiasi di... Ce l'abbiamo dappertutto, mi sa l'anno. Beh, io scendo. Di mozi bassi, adesso. Altezza 3. Signori. Qua. Non si scherza. Più bassi di così. No, sì. Adesso dobbiamo risalire, perché... C'è il nero lì che mi blocca. Nero, non quello per formattare i CD, eh. No, per formattare, sì. Ciao. Per mostrizzarli. Allora. Intanto proseguiamo. L'abice della terra. Qua. Ok, mi son fatto... Una bella pala. Aia. Ti ho spicconato un piede. E allora? Ecco qua, guarda qua. Redstone. Un bel muro di redstone. Aia. Mi ha tirato un'altra spicconata nella schiena, mi so. Uh, ce ne parecchia qua, Redstone. Dai diamante. Guarda qua, lapislazuli. Eccoli qua. Ah, solo una. Guarda di qua. Ce ne sono ancora. Dai, 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 che voglio chiare. Stato. Eccoli lì. Non ce ne sono più. Basta, solo due blocchi di lapislazzoli. Beh dai, non ci lamentiamo. Meglio di niente. Andiamo avanti ancora. Impavidi. Ah, guarda qui, altra pietra rossa. Non è talmente tanta pietra che poi possiamo costruire un castello. Di pietra rossa? No, di pietrisco. Di pietra rossa facciamo qualcosa di esplosivo. Ce l'ho insegnata e lo facciamo. Beh, direi che un altro piccone si è rotto. E qua ho trovato l'oro. Parecchio oro. Ah, è morta però. Eh, non male, non male. Non c'è che dire. Questo viaggio al giallo dalla terra ci sta procurando qualcosa però non ci sta procurando quello che vogliamo noi. Anche perché con l'oro si può fare relativamente poco. L'armature ma sono peggio di quelle in metallo. Si può fare la... la bussola o qualcosa del genere con l'oro. Sì, è vero, la bussola si può fare. O quello che si chiama il giorno e la notte cioè l'orario, l'orologio. L'orologio di Minecraft. Però anche lì non... non è un materiale molto utile. È raro ma non è molto utile. Al massimo mettiamo dei muri d'oro quando riusciamo a fare i blocchi. Io c'ho la corazza d'oro attualmente addosso. Beh, allora mi faccio i denti. Mi faccio i denti d'oro. Così mastico più veloce. Le ho droppate da qualche motor. La dentiera? Sì. Beh, interessante. Altra pietra rossa. Guarda però se ce n'è. Lapislazuli. Due blocchi. Solo due. Andiamo. Sì. Minecraft. No. Tantissime pietra rossa. Buono, buono. Ancora ce n'è. C'è oro qua. Ah, è finito adesso. Oro. Quella è... Non è oro. Sì che è oro. Quella è ferro. No, no. È oro, è oro. Infatti mi sono aumentati i miei blocchetti di oro. Mi sembrava ferro. Complimenti per l'occhio. Ah, già. Questo è ferro. Questo sì. Sento odore di... Sento odore, sì. Eccola. Sento... Eccola, stavo per nominarla. Placchiamo la lava. Ah, guarda qua. Vediamo se c'è qualcosa interessante. Su questo fiume. Ma io già che ci sono ci butto giù un po' di... Terra inutile. Un po' di pietra più che altro. Da quella parte è sconfinata. Probabilmente anche da questa. No, seguiamo la lava. Chi fermerà la lava? La pietra rossa? Che ce l'ha? Ancora pietra rossa. Vieni qua a prenderla te che hai tu le scorte. C'è una da 64 di pietra rossa e una da 54. Questa è buzze prolifiche. Magari ci porta anche qualche bel... C'è dell'altra pietra rossa che prenderai. E... Con questa pietra rossa mi sa che l'episodio di oggi... ...è finito. Guarda qua ancora. Guarda qua ancora. Ti spicco nella schiena perché te la tempro. Sì, la schiena... Ah, mi hai messo a posto la corazza d'oro. Sì, infatti era lì un po' ammaccata. L'ho fatto una sbugna simmetrica e così. Comunque, con questo episodio più narrativo che altro. Cioè, al fine abbiamo trovato solo un po' di materiale. Abbiamo scavato nel nulla. Qualche puzza di lava. Noi vi salutiamo e vi preghiamo ancora di commentare. Fateci sapere la vostra. Aiutateci a crescere se vi piacciono i nostri video. Se non vi piacciono... Aiutateci a fare un piacere. Scrivete nei commenti. Questo video fa schifo. Scusate, questo video fa schifo. Cambiate storie, insomma. Non è che così non si va. Eh, almeno così sappiamo che fa schifo e lo facciamo diverso. Infatti, perché se no continuiamo a farne e vi fanno schifo. Gonzuto si suicida. Ah, sì? E poi finiamo male. Cioè, vedi? Perché lui tira giù la lava, ce la fa cadere in testa e non succede niente di buono. No, ho messo una... Ok. Stai cadendo tutto. Beh, gli fai una torcia invece che la terra. E vabbè, con questo episodio vi salutiamo. Ciao TataTag e Dagonzuto. Ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.